Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Oggi ci è venuta a trovare graditissima ospite Liliana Fiorelli. Ciao Liliana. Ciao Simone, grazie a tutti. Come stai? Bene, bene. Bene? Sì. Come ti senti in questo ambiente così sportivo? Beh, curiosa. Ecco, curiosa. Perché noi poi vi racconteremo in realtà di uno spunto molto interessante che mi ha dato Liliana di una storia che non conoscevo tra l'altro nella mia onesta ignoranza, lo ammetto. Invece Liliana è preparatissima sullo sport, preparatissima, quindi poi lo scopriremo. Però prima, cara Liliana, cominciamo da te, raccontando un po' la tua carriera, cosa hai fatto fino adesso. Raccontaci un po' di te, insomma. Raccontalo soprattutto ai nostri amici. Ovviamente abbiamo detto che sei un'attrice. Tu sei soprattutto molto trasversale, perché tu hai abbracciato il web, poi il TV, tramite le serie TV, fiction, hai fatto cinema, teatro. Insomma, c'è già una carriera abbastanza importante, insomma, alle spalle e in futuro anche adesso usciranno anche i prodotti che poi dopo li racconteremo. Eh, Simone, sì, diciamo, mi diverte essere cross-mediale. Hanno inventato questa parola, effettivamente giusta anche per i nostri tempi. Ci richiedono di essere multitasking. Anche come artista, come attore è interessante avere, insomma, testarsi in vari media. Ecco, ho iniziato dal web, abbiamo iniziato qualche anno fa con Fabrizio Colica e Le Coliche, che era questo gruppo di creativi con cui abbiamo fatto tanti personaggi, imitazioni, sketch, che ci hanno anche messo in contatto con un pubblico veramente di nostri coetanei, che sono diventati poi molti amici, una vera fanzine. Poi, sì, la televisione, in particolare ho collaborato con quelli che è il calcio e mai dire con la Gialappas, insomma, questi sono stati i miei lavori più divertenti e tra un pochino ci sarà un bellissimo prodotto fictional, cui sono molto molto legata anche come spettatrice perché è un remake di una serie americana. E poi, sì, sto lavorando in cinema, che è il mio vero grande luogo d'amore. E niente, quindi Roma mi porta bene. Tanta roba, quindi andiamo un po' per step. Allora, io partirei dal cinema, partiamo dal cinema, perché insomma io mi sono segnato un po' una lista di film, perché nel genere hai fatti discreti, quindi io ho pessima memoria, come ti ho detto, quindi me li sono scritti. Perché insomma tu sei partita, diciamo che io t'ho visto, t'ho ammirato anche, soprattutto nei Predatori di Castellitto, che è un film bellissimo, a me è piaciuto tantissimo di Pietro Castellitto, però hai lavorato anche con Virzi, hai lavorato anche, hai avuto una parte anche nel film di Ferrara, Pasolini ho letto. Sì, sì, una piccola collaborazione. Una piccola parte, una piccola collaborazione, poi c'è Confuse e Felici di Massimiliano Bruno, insomma tanta roba. Hai lavorato tra l'altro con padre e figlio Castellitto, perché pure con Sergio Castellitto hai lavorato. Esatto. Allora, si può dire che tu hai interpretato tanti personaggi, hai lavorato con tanti registi variegati, anche anagraficamente diciamo, no? Cosa sono le cose che ti, per un'attrice, no? Cosa sono le cose che ti rimangono più addosso nel lavorare con determinati personaggi sul set? Allora, il regalo più grande che può farti una bella collaborazione con un regista è il tempo che ti dedica prima dell'azione. Sapere che è un tempo profondamente gratuito, generoso, fatto veramente solamente per regalarti quello che è il senso del testo, della sua idea, raccontarti un po' qual è anche la visione, l'immagine, la resa che sarà, anche di montaggio. Io apprezzo molto i registi in particolare che ti rendono partecipe l'attore di quello che sarà il dopo, che te lo dicono prima. Quindi ti danno molte informazioni prima per farti lavorare meglio durante e poi avere un dopo che sicuramente rispetta le aspettative. Parlando del futuro, c'è un film in lavorazione che ti vedrà nel CAS, che è quel film di Karen Di Proto, che è Il Grande Boccia, giusto? Esatto, Karen Di Proto. Cosa ci puoi raccontare? E se non ci puoi raccontare niente, raccontacelo lo stesso. Allora, possiamo dire il titolo che è Il Grande Boccia, è un biopic in un certo senso perché racconterà un personaggio molto particolare, protagonista del cinema, di un certo cinema della Roma degli anni 50 e 60. Quindi stiamo lavorando nella cinecittà vera e propria degli anni 50 e 60 per raccontare sostanzialmente un film che parla anche di cinema. Allora, abbiamo detto che hai lavorato con tanti registi giovani, un po' più avanti con l'età, nel senso anche con l'esperienza, e ne hai ancora a lavorare con tanti altri. Qual è un regista, questa è una domanda che non ti ha mai fatto nessuno, qual è un regista con cui ti piacerebbe lavorare? Soprattutto ti piacerebbe lavorare come regista? Ok, due domande, attenzione. Facili ma difficili nello stesso tempo, perché la risposta è molto delicata. Allora, io sto riscoprendo veramente un piacere lavorare con registi molto giovani, molto giovani, quindi all'elà dei grandissimi nomi, il mio sogno sarebbe lavorare con Sorrentino, ma anche con Garrone, con nomi veramente che hanno reso l'Italia e rendono l'Italia ogni anno un orgoglio dal punto di vista cinematografico, quindi della fascia altissima. mi piace molto lavorare con le nuove leve della regia, perché noto anche ultimamente lavorando anche in piccoli progetti di video art, clip, cortometraggi, un entusiasmo registico, anche un'intuizione, un azzardo che mi stimola. Quindi, ecco, giovani registi, se volete proponetemi le vostre scritture, i vostri progetti e l'Inera è qui per accoglierli. Allora, tra l'altro, parlando proprio di Sorrentino, facciamo gli complimenti, perché insomma è freschissima la nomination per gli internazionali agli Oscar. L'hai vista? È stata la mano di Dio, ti è piaciuto? Assolutamente sì, l'ho vista in sala, ci ho tenuto a vederlo assolutamente in sala, il primo giorno possibile. Che dire, io ho letto e concordo con tutte le parole con cui hai ringraziato poi nella nomination in cinquina, si ride, ci si emoziona, è stato veramente un regalo allo spettatore. Quindi l'abbiamo accettato. Speriamo bene. In crociamo tutto. Finger crossed. Eh sì, assolutamente. Senti un po', ma a proposito di Sorrentino, la nomination agli Oscar di Sorrentino, testimonia come il cinema italiano vale ancora a livello internazionale, no? Cioè il cinema italiano ha una storia pazzesca, no? A volte c'è la sensazione che noi tendiamo un po' a sottostimare l'importanza che il cinema italiano ha nel mondo. Sì, è vero, tendiamo un po' a sottostimarla. Forse siamo proprio italiani noi, eh, forse. Un nemo profeta in patria, come si dice. Infatti ricorderei anche che tra le varie nomination c'è anche Cantini Parrini, che è uno, insomma, pluripremiato a livello mondiale costumista e non solo, quindi ci sono poi anche dei riconoscimenti al di là dell'ambito registico e o attoriale, anche dei riconoscimenti riguardanti maestranze o artigianato. Ecco, recuperare un artigianato, quello che mi piacerebbe molto riscoprire, dare un'attenzione anche a partire dalle scuole e dalla formazione, è veramente alle penne, all'autorialità, alla scrittura, perché è veramente lo scheletro portante di quelli che poi sono i grandissimi film. coltivare, allevare, sostenere, supportare una classe di bravi autori e sceneggiatori assicura una lunghissima vita al cinema, perché parte dalle storie, non parte da, diciamo, gli addobbi, ma parte veramente da, come si dice, no? è stata la mano di Dio, la tieni qualcosa a raccontare, dimmella, ma veramente, bisogna partire dalle cose da dire e poi girarle, come sappiamo, e sono anche grandissimi casi, che si può girare anche con un iPhone ormai il cinema, quindi per i mezzi poi si trovano. E ti rispondo anche la domanda che mi hai fatto prima sulla regista, vero? Ti è rimasta quella pendente, perché io ho tentato, ho fatto un esperimento di regia, un piccolo cortometraggio che mi ha molto divertita, ho trovato estremamente piacevole il rapporto proprio di direzione degli attori, che spesso dice, no, il regista deve occuparsi di tutto, ma in realtà la parte più, il cuore della professione è proprio la direzione degli attori, quindi ho trovato molto bello dirigere gli attori, meno coordinare tutto il resto, quindi non so se la risposta sarebbe sì, chissà. O magari sarebbe bello tipo, vorresti fare la regista di te stessa, cioè tu anche protagonista, ma là poi andiamo in un livello già troppo avanzato, vedremo, vedremo. Senti, tu sei una spettatrice onnivora, mi sa, vero? Guardi un po' tutto, giusto? Sì, sì. Sia serie tv o di ogni tipo, italiane, straniane, ce n'è una che preferisci, come genere, non dire di Sisas, perché per motivi ovviamente poi caderemo. Uh, l'hai detto! L'ho detto, era quella però, partiti scherzi. Allora, no, hai detto bene, sono una spettatrice onnivora e soprattutto non giudicante, a volte guardare anche prodotti che non fanno parte del proprio gusto, prodotti magari di serie B o più, può insegnare tanto anche la professione. Una serie che mi è piaciuta particolarmente è Made, l'ho trovata su Netflix, giusto, con fondo di piattaforme, sì, veramente interessante, sotto tutti i punti di vista, dotata di un'eleganza, un'intensità, e anche Anna di Ammaniti, che ho trovato su Sky, bellissima. Sì, che dire. Quindi, appunto, italiano, serie italiane, sai da essere, giustamente, abbracci un po' tutto. Allora, passiamo alla tv, che è forse l'argomento più attuale, no? Ci parlavi, appunto, di Noi, che è questa serie che andrà su Rai 1, giusto, una serie di serie Rai, che è ispirata a un remake di una famosa serie tv americana, This Is Us. Sì. Allora, raccontami un po', insomma, quanto è stato figo fare un remake di una serie così bella, che immagino sia stata anche una che tu hai visto, l'avrai sicuramente ammirato come tutti noi del resto. Sì. Quando te l'hanno proposto, insomma. Mamma mia. Innanzitutto credo di aver avuto una grande fortuna, di averla vista da spettatrice prima di ogni possibile notizia o provino, eccetera. Quindi me la sono veramente goduta, ho potuto emozionarmi a cuore sincero e aperto. Posso dire che questa serie è importantissima, anche poi parlando, sì, il personaggio, la storia, il remake è interessante, però veramente lavorare con persone così preparate, così umane, è ed è stato ciò che farà la differenza del prodotto noi. Mi sono sentita veramente per, forse la volta in cui mi sono sentita più, di appartenere ad un lavoro. E quindi in realtà non vedo l'ora anch'io di vederlo per intero. E quindi sì, è un remake di una serie che abbiamo amato, ma ha delle, insomma, assolute specificità e un gruppo di lavoro pazzesco. Tu interpreterai Chiara Sennati, giusto? Esatto. Una delle protagoniste. Bene, ho capito, non mi puoi dire altro, quindi poi non ti voglio mettere in difficoltà. Allora, dicevamo della TV, passiamo un po' alla TV, perché a parte appunto noi che è una serie che uscirà, quando uscirà? 6 marzo. 6 marzo, insomma ci siamo, siamo in arrivo. E tu hai avuto anche tante occasioni di lavorare in televisione, appunto, Cops su Sky è anche stata una delle serie a cui ti ho ammirato, e anche quelli del calcio, giusto? Sì. E a quelli del calcio che cosa facevi? Perché qua c'è un link sportivo non indifferente. Esatto, l'hai trovato, l'hai trovato, e sì, in Cops ci siamo divertiti, è una serie, vabbè, bellissima, divertentissima, comica, brillante, a tratti demenziali, ci siamo divertiti tantissimo. Però sì, in quelli che è il calcio c'è il vero contatto con lo sport, perché lì, diciamo, ci siamo divertiti a dare corpo, voce, anima a Georgina Rodriguez. Insomma, non una di passaggio, diciamo. No, che poi insomma l'abbiamo portato bene, perché possiamo dirlo, Georgina, insomma, da lì poi è uscita la serie, insomma, ti abbiamo portato bene. Ringraziamo anche Liliana, per favore, diamo anche Liliana quello che è di Liliana, giustamente. No, è stato bellissimo dare voce, corpo e anima a un personaggio che poi inizialmente, quando l'abbiamo testato in quelli che è il calcio con gli autori, con Luca, Paolo, Mia e tutti gli altri personaggi del programma, le abbiamo dato, in realtà non era ancora uscito moltissimo, erano usciti pochissimi video in cui si riusciva a percepire anche solo la voce, quindi abbiamo dovuto di fatto quasi inventarlo, come se fosse un vero e proprio ruolo, perché avevamo talmente poche informazioni che siamo potuti divertire e quindi anche la voce che abbiamo trovato, le movenze, gli argomenti, il vestiario. Inizialmente, nelle prime volte in cui facciamo le prove, c'erano ancora pochissime informazioni, quindi è stato interessante essere un po' investigatori privati andando a trovare informazioni che potessero dare senso di realtà al personaggio, ma anche andare su con la fantasia. Ma qui non è che magari Giorgina poi ha preso ispirazione dal tuo personaggio per diventare quella che è oggi, forse, probabilmente. Chissà, chissà. Però ecco, la serie di Giorgina ancora non l'ho vista, vedi, chissà, la vedrò. Vedi, appunto, esatto. Non ha avuto neanche il piacere di incontrare Ronaldo, immagino. No. Purtroppo, quello ci è mancato. Ci è mancato, purtroppo, non ci è stato, mi dispiace, non l'ho incontrato ancora. L'originale, invece, immagino di sì. Allora, un altro aggancio con lo sport che mi dà appunto questo tuo personaggio che hai fatto per quelli che calcio è quanto sei sportiva, quanto è sportiva, Liliana? Nel senso, sei una che è tipo da beach watching sul divano, sei la campionessa olimpica oppure comunque pratichi sport, come ti tieni in forma, cosa fai? Sportiva è un bel aggettivo, cioè sportiva nella vita, capito? Abbraccia tutto, sportiva anche come approccio, sportiva la vita, se vogliamo. No, no, io intendevo proprio a livello proprio atletico. Allora, atletico, sono un'ex pantofolara prestata però alla corsa mattutina tre volte a settimana. Quindi comunque con i miei tempi, il mio modo, perché comunque abbiamo i capelli da lavare, ragazzi. Quando si va a correre i capelli richiedono un tempo troppo lungo. Ma pure io ciò che sto assorbitando il fatto. Eh, ma quindi se i capelli si eliminassero, uno si prende, invece purtroppo non puoi correre e poi avere subito un appuntamento. Quindi diamo la colpa alla vita, no, per non fare più attività fisica. Comunque no, inizierò presto, approfondirò il ballo, ad esempio, se può essere considerato un'attività sportiva. Per qualche cosa televisiva o per una tua passione personale? Vediamo, vediamo, uniamo l'utile al dilettevole. Quindi sì, sportiva, ecco, mi piace molto l'aria aperta, quello sì, però apprezzo molto, seguo molto, ecco, sono una binge watcher di sportivi, quello sì. Allora, perché infatti c'è una domanda che ti avevo posto prima dell'intervista in realtà, che però mi ha aperto un mondo, appunto, quale atleta ti piacerebbe interpretare in tv o al cinema? E tu, insomma, mi hai raccontato questa storia bellissima di questa maratoneta nella maratona di Boston, giusto? Esatto, sì, è stato bello proprio riscoprirla, anche perché è una storia talmente potente che serve bello vederla presto, magari sugli schermi, raccontata. Si sa, la conoscono in pochi, stiamo parlando di Katie Schwitzer, che nel 1967 ha compiuto in maniera irregolare, sostanzialmente, la prima maratona, la prima donna a compiere una maratona a Boston. È iconica la foto in cui lei corre con un numero stampato sul petto, in cui ovviamente aveva finto iscrivendosi alla maratona solo con le iniziali, quindi credevano fosse un uomo, ricordiamo che potevano correre solamente uomini fino al 1967. E al dunque, quando poi si è scoperta essere una donna, questa foto iconica di tutti, il giudice di gara, gli spalti, che provano a trattenerla fisicamente mentre lei corre e arriva alla meta. E da lì è stata poi una vera e propria rivoluzionaria e pioniera dell'atletica leggera, delle maratone, perché appunto fino al 1967 alle donne non era consentito correre per lunghi tratti, il massimo era gli 800 metri, perché è considerato disdicevole e correlato a problemi di infertilità riguardanti l'utero. Insomma, e stiamo parlando del 1967, quindi è incredibile come lo sport, inserito in esseri umani, dotati di carisma, di forza, di determinazione, possa veramente fare la rivoluzione anche al 360 della vita umana, storica. E racconta anche di quanto lo sport in realtà sia molto più cinematografico di quanto si possa immaginare, perché appunto queste storie sono proprio dei film, nate per essere dei film, no? Sì. Senti, questa foto appunto della Switzer l'hai postata sul tuo profilo social, no? Sì. Altro aggancio per raccontare un po' il lato social di Liliana, perché diciamo tu sei molto attiva su Instagram soprattutto, tu usano tutti soltanto Instagram, mi spiace fare pessima pubblicità per Facebook, però diciamo non sarà quello il problema di Facebook, immagino. Però diciamo, com'è anche il tuo rapporto? Non so tu se hai degli haters, come ti dici, cioè tu gli insulti, gli haters che ti insultano, è una cosa tipo rissa oppure li gestisci serenamente ignorandoli? Cioè come funziona, com'è il tuo approccio a questo mondo social? Beh, è una bella domanda, perché in realtà... Non ce l'hai? Non ce l'ho, ma dico, ma dico, ma dico, ma dico, ma dico, insultate la porca vacca, dai, mi rovinate le domande così. Ma io dico, ma o state zitti e mi dite peste e corna di Ed, io non lo so, dico ragazzi, no, devo dire che effettivamente si spera nella spontaneità con cui gestisco i miei social, perché appunto sono molto spontanea, nulla di... Non hai un social media manager che ti gestisce? Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, ancora non ce l'abbiamo. C'è la, Giorgina ce l'ha però. Giorgina ce l'ha, io non lo tengo, però nel senso, nel modo spontaneo con cui lo gestisco, veramente dico, effettivamente spero di dare, come dire, non dare proprio spago, ecco, in generale, quindi qualcuno ogni tanto, diciamo, ma più, come dire, non so nemmeno, sono profili falsi ragazzi, ma di cosa stiamo parlando, quindi chiamarli hater è anche inserirli in un ambito dei sentimenti, no, l'odio, l'amore, sono profili falsi, te blocco e tanti saluti. Si vive bene lo stesso anche senza questi personaggi, questi personaggi, queste entità, diciamo. Tornando alla tua attività professionale, c'è un altro aggancio per il teatro, perché tu hai fatto questo spettacolo, è il primo spettacolo che tu facevi il teatro? Sostanzialmente sì, nel senso, il primo debutto... Con l'importante, diciamo, ok, con Edoardo Purgatori che è Girl in the Machine, che è tra l'altro una storia ambientata proprio in un mondo virtuale, in due persone che si ritrovano dipendenti dal virtuale, esatto, da un mondo completamente connesso, iperconnesso. Guarda, Simone, ti ringrazio proprio per questa domanda, perché è uno spettacolo scritto dalla pluripremiata Steph Smith, che quindi è un'autrice riconosciuta a Lorenzo Liver, e non solo, un testo inglese, scritto appunto da Steph Smith, poi diretto nella nostra versione della prima italiana, da Maurizio Mario Pepe, ed è interessante perché questo testo, che racconta appunto una realtà distopica, in cui la tecnologia si sostituisce all'intimità, alla sessualità, al sentimento, alla casa, all'appartenenza, alla famiglia, è stato scritto nel 2017. Cioè, laddove, adesso abbiamo anche una pandemia, le situazioni anche un po' diciamo appunto incredibili sono diventate assolutamente incredibili, lo straordinario è diventato ordinario, ma pensare che questo testo aveva una potenza, un'attualità, ma scritto in tempi non sospetti, è la vera forza che ha consegnato a noi la motivazione per portarlo nella rassegna di Rodolfo Di Gianmarco Trend, al Teatro Belli qui a Roma, e poi di condividerlo, è stato bello perché a volte il bello del teatro, che sta avendo anche una grandissima nuova linfa, dopo il periodo che ci stiamo fortunatamente lasciando alle spalle, perché crea finalmente un ritorno al parlarsi, al ritrovarsi fisicamente, ma soprattutto proprio al dibattito dopo la visione, che la ritrovo, è il momento più fantastico, perché la solitudine dello schermo, dello streaming, ti porta che lo vedi, switch off, vai a dormire, hai visto, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, al massimo un aggettivo, bel, brutto, e invece il dibattito è veramente quello a cui bisogna tornare, è quello che fa anche un po' il caso forse. Che fa anche il cinema in realtà, sperando che la gente torni nell'esale, insomma, che sono posti sicuri, ricordiamolo, perché poi alla fine sembra sempre che non lo siano. Senti, allora, chiudiamo con la tua ultima, perché tra l'altro Liliana, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di serie, abbiamo parlato di musica, perché Liliana è anche cantante, anche cantante, cioè tu hai realizzato, durante il lockdown, immagino, 2020, che era estate 2020, quindi diciamo che stavamo tutti chiusi dentro casa, infatti il video ti vede protagonista dentro casa, non so se è casa tua o comunque una casa, e quindi insomma hai fatto una hit estiva, giusto? Carina tra l'altro, io ho sentito, è carina. Grazie, grazie mille, guarda, è stato in realtà il progetto più spontaneo, forse vero, creativo. Si vede, si vede. È uscito veramente in maniera assolutamente non strategica, non pensata, e la cosa interessante è che ho trovato poi Dei Matti, il produttore, diciamo il discografico Alessandro Forte, che ha una grandissima esperienza alle spalle, e tutti poi coloro che hanno deciso di arrangiarlo con me, girarlo con me, Giacomo Spagone è la regia, Roberta Sardella come ha girato con me il video, tutti giovani promettenti, in realtà, giorno zero, si chiama così la canzone, è stata poi fondamentale rispetto a poi quello che era all'epoca un desiderio, che però dico, magari è di questo momento, che però stiamo vedendo che sta durando anche dopo due anni questo desiderio di tornare alla normalità, e quindi, insomma, siamo ancora un pochino alla ricerca del nostro giorno zero, e che sicuramente poi mi ha dato nuovi strumenti per continuare anche questo percorso creativo. Anche una bellissima oce, Eliana. Ne vedremo. Ne vedremo delle belle. Allora, Lina, io intanto ti ringrazio per essere stata la nostra ospite, che ti sei prestata a questa intervista, e soprattutto, ricordiamo l'appuntamento, quindi ti vedremo fra meno di un mese, insomma, hai detto il 6 marzo, hai detto? Il 6 marzo, Rai 1, prima serata, noi. Esatto. Poi tornerai a presentarlo, se non mi ritorni qua fra un mese, così ci dici qualcos'altro, cosa che oggi non ci hai potuto dire. È vero. Ci darai un po' più di dettagli, insomma, su questa serie. Grazie mille, grazie davvero, e a presto. Un saluto a tutti i nostri amici. A presto. Ciao. Ciao.